Grazie 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 a tutti. 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 Adesso puoi parlare. Ti chiedo schiuma, vito, l'allenatore che è... Guarda che cavatappi che c'è... Il profilo. Il corno. L'unicorno. Aspetta, ti faccio la... No, e vabbè ormai... Ok, fermo così, no di muovere, la pubblicano il gruppo. Tre talk no, ma non il gruppo quello speciale, quello segreto. Gruppo pro... E' un po' di riporre. Aspetta. Vuole essere anche naturale come... E' bellissimo. Buon fatti Buon fatti Sì, è lei Buon fatti Buon fatti, scusa State allenando questa cosa qua Del bagno, davvero? Ah, ok E' una specialità E' una specialità Dei punteri Buon fatti Buon fatti Ma questa cosa Che a Biswale si fanno i tre tocchi Proprio non Perché fare i tre tocchi Quando si può sbagliare Per il giusto Potrebbe esserci un collare Collegato all'alta tensione Ogni volta che uno Tira un bagger di là di seconda L'allenatore ha un tasto Che comunque Cosa? Il bagger di seconda di là? L'attacco contro il bagger È giusto che Non dagli colpa Sono delle scherbe Devo fare gli esami quanto prima Anch'io Poi c'è Monica Che è verenosa Guarda 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 Io a prendere sul personale Questo fa Custo rino Fanno delle cose chi fa il 21 più bello secondo me il trumento con l'h vero? abbiamo visto ma dov'è il telefono? sì, la legge della conchiglia prima e poi camminano velocissime alla maniglia anche camminano veramente velocissime già persi già andate chissà verso dove? sì 100 nel frattempo se vuole controllare il telefono devo controllare anche Bertolini se vuole controllare il telefono la didascalia ok, cancellano subito dalla memoria del mondo visto che c'è questa opportunità che angela per me e per tutti vedi Balsamo non si fidava dell'atleta l'ha inseguita per far recuperare il pallone la sta scortando come fanno in Serie A al campione italiano? l'arbitro scorta l'atleta è un butta fuori per essere sicuro che i fan le danno assedio allora Balsi ma lei prendi i segni o prendi i junior? io non so lo dovrei sapere ma non me ne parlo le c'è una vera prendi i primi i comendenzi prendi A e prendi S vai, ultima palla a tetra bella parte, via subito, equilibrio oh, oh due piegamenti due piegamenti vado a comprare le patatine tra 20 minuti ci tocca spostare un po' di tutto vediamo un grosso grazie